Buongiorno a tutti e benvenuti per la serie di interviste per il decennale di sinestesia. Oggi abbiamo come tema la sostenibilità e con noi un ospite che è, posso dire, poliedrico. È stato un giornalista d'inchiesta che ha vinto il premio Ilaria Alpi nel 2012 per una coraggiosa inchiesta sul traffico internazionale dei rifiuti, ma è anche un narratore, è anche un conduttore radiofonico, scrittore. È con noi Emilio Casalini. Benvenuto Emilio e grazie per essere con noi. Ciao, buongiorno a tutti. Davvero un piacere. Ciao. Bene, dunque, io prima ti ho introdotto con una serie di ruoli e di cose che hai fatto, di attività, e ti ho definito anche poliedrico, perché ti occupi di tante cose, ti sei occupato di tante cose, tutte con un filo conduttore comunque legato alla bellezza. Oggi di cosa ti occupi? Quali sono le cose che ti muovono in questo momento? È una declinazione continua e credo che sia proprio anche poi il segno dei tempi, no? Una volta avevamo lavori molto fissi, per cui eravamo preparati da fin da piccoli e poi li portavamo avanti fino alla fine. Oggi non solo siamo nell'epoca della singularity e tutto cambia velocemente, ma anche, non so, noi stessi, io parlo per me, io continuo a cambiare, evolvermi molto velocemente, assecondando anche quello che succede intorno a me. Mi occupo di valorizzazione della bellezza e strumenti di narrazione dell'identità, fondamentalmente, e questo si declina in varie misure. Da una parte sono consulenze per i territori, per dire come si può raccontare meglio l'identità, perché quando hai qualcosa che ha valore, prima devi conoscerlo e serve raccontarlo a chi ci vive e poi quando l'hai raccontato offrirlo anche agli altri. E anche questa è narrazione, è un racconto di quello che sei e del valore che ha. E serve per creare un valore aggiunto, magari anche lavoro, benessere. Quindi questo è un ruolo. Un altro ruolo è, mi sto occupando moltissimo di una cooperativa di comunità a Sciacca, in Sicilia, in provincia dell'Agrigento, dove sono il direttore creativo di un progetto che si chiama Museo Diffuso dei Cinque Sensi, in cui la cosa è semplicemente che un territorio, una cittadina di 40.000 abitanti, con un centro storico molto carino ma poco valorizzato, così come tutte le sue risorse, decide insieme di raccontarsi e di organizzarsi per accogliere un turismo di qualità, che sia come cittadini temporali, come amici, come persone, che vogliono scoprire con cui condividere la propria identità. E questo è un progetto molto grosso, che sta crescendo, aspettiamo di partire adesso a breve. Mi occupo di un programma televisivo, che è andato in onda 2019 con 5 puntate, che si chiama Generazione Bellezza su Rai 3. Sono andate molto bene, poi siamo bloccati per il Covid, però adesso riprenderemo a girare, andremo in onda a dicembre con quasi un mese intero di puntate. E poi l'ultima cosa un po' particolare è che al 20 di maggio adesso partecipo, apre la Biennale di Venezia di Architettura e partecipo come espositore con una installazione che parla dell'economia e della bellezza, dove in realtà tutto quello che ho detto in realtà è tutto connesso. Wow, quante cose! Beh, effettivamente sì, è tutto connesso, il filo conduttore è molto è molto chiaro la bellezza e la sostenibilità anche, legata a questo progetto turistico di cui ci stavi parlando. Ecco, perché è così importante raccontare la bellezza? Mi viene in mente la frase di Peppino Impastato, che diceva se insegnassimo alla gente la bellezza gli daremmo un antidoto all'omertà, alla depressione, a tutta una serie di situazioni e cose negative, che si trovano ad affrontare. Quindi perché è importante raccontare la bellezza e poi si può insegnare e come si può insegnare la bellezza alle persone? Allora, la frase che tu giustamente citi di Peppino Impastato porta a un tema che è quello della consapevolezza ed è il tema per cui non riuscirei mai a convincere qualcuno davvero alla sostenibilità finché non ne capisci il valore. Cioè tu puoi imporgli quello che vuoi, ma finché non lo capisci, lui il sacchetto della spazzatura lo butta fuori, quando vede che lo butta fuori, non gliene frega niente. Finché non c'è uno switch mentale, è inutile, cioè è proprio, sì, si fa qualcosa, ma è faticosissimo imporlo con la forza, con le multe, con le sanzioni, eccetera, eccetera, obblighi. Tutto diventa diverso quando capisci, capisci il valore delle cose. Allora, la bellezza è una specie di paradigma in cui metti insieme tutto, è un modo di essere belli non esteticamente, ma belli dentro, è un modo di migliorare il nostro sistema di vita, è un modo di considerare tutto quello che ci circonda, dall'ambiente alle risorse, nel patrimonio materiale e immateriale, come un valore. Cioè nel momento in cui capisci, riesci a capire il valore di questo, poi aumenti la consapevolezza, la consapevolezza ti porta all'azione. E quindi tu stesso diventi un valore. Ed ecco perché è così importante la narrazione della bellezza, secondo me. Perché ti fa rendere... Allora, un esempio pratico è quando tu vai all'estero e tutti, ma tutti, diciamo, ma guarda questi che non hanno niente, cosa hanno combinato, che bravi che sono a raccontare. Pensa a noi, no? Una frase classica, pensa a noi cosa potremmo fare. Ok, e perché non lo facciamo? Lo diciamo spesso. Quando sono nato, no? E poi, sì, ma la domanda è, perché non lo facciamo, se lo diciamo sempre? Allora, ecco dove il mio ruolo oggi è questo, è dire, rispondiamo alla domanda perché non lo facciamo. Uno, perché siamo viziati. Due, perché siamo un popolo abbastanza... è troppo facile, no? Siamo circondati dalla bellezza e quindi va da sola. Non dobbiamo sforzarci. È come se tu vivi a fianco a un albero che ti dà dei frutti buonissimi, prendi la mano, te li mangi, cioè perché devi sbatterti a cercare di far qualcosa. Noi più o meno siamo sulla stessa linea, no? Per cui andiamo per inerzia. E invece oggi non basta più questo. E quindi ecco dove la narrazione della bellezza in realtà è la presa di consapevolezza del valore di quello che siamo. Sia del patrimonio materiale e immateriale creato dall'uomo, sia del patrimonio naturale, intendo qualsiasi cosa a livello che non abbiamo fatto noi, sia come quarto sapere quello che siamo noi stessi, cioè i nostri talenti e le nostre cose. Ecco, mettere insieme questi quattro saperi, trasformarli in azione, è un po', ecco, la realizzazione della bellezza secondo me.